Un collaudato sistema prostitutivo, di cui Rubi era parte integrante, un mercimonio sessuale. Così il PM Antonio San Germano ha iniziato la sua requisitoria contro Silvio Berlusconi, imputato nel processo sul caso Rubi. L'accusa ha voluto sottolineare la macroscopica anomalia dell'imputato, che ha iniziato a remunerare i testimoni a suo carico, con 2.500 euro mensili. L'ex premier è imputato per concussione e prostituzione minorile. «Pronta la replica di Berlusconi. Solo fantasie. Nella mia vita ho avuto la duplice fortuna, e forse il merito, di non aver mai dovuto remunerare una signorina o una signora per avere rapporti intimi, e sono sempre stato in grado di dare una risposta positiva a chi mi si rivolgesse chiedendomi un aiuto. Il Pubblico Ministero probabilmente non ha avuto nessuna di queste due fortune». Il PM, nella sua discussione, ha messo in contraposizione le deposizioni delle ragazze ospite ad Arcore, che hanno ammesso quanto sarebbe accaduto, con le testimonianze delle altre, quelle che ricevono i bonifici. Tra le testimonianze è fondamentale quella di Melania Tumini, portata ad Arcore dall'amica d'infanzia Nicole Minetti, che ha raccontato di ragazze che scoprivano i seni e di altri atteggiamenti di natura sessuale. Il sistema, secondo la procura, era organizzato da Nicole Minetti, Emilio Fede e Lele Mora. Secondo San Germano, verrà dimostrato che la natura degli eventi organizzati presso la casa dell'imputato non fossero normali scene contornate da qualche episodio di burlesque, come affermato dalla difesa, ma che il sistema prevedeva la retribuzione delle ragazze da parte dell'ex premier, come corrispottivo degli atti sessuali compiuti. Denaro in contanti o con bonifici, le case in viol gettina, ma anche prospettiva di inserimento professionale e anche politico delle giovani donne.